Di chi lo? Ah, capo! Capo, chi è? Vedi che una cliente ha comprato questo quadro. Ah, fallo scontato questo? Già fatto. Solo che mi ha chiesto, ma questo è, diciamo, rappresenta un'alba o un tramonto? Ah beh, si capisce. Albo tramonto? Eh. Ma di chi è il quadro, scusami? Mangiò uno. Michele Mangiò uno? Sì. Questo è un tramonto. Perché? E il pittore lo conosco. Quel frito di mezzogiorno non si alza. Come un po' è svaldo. Signore, è un tramonto, tranquilla. Ci bella la vita che fai mangiò.